È accogliere la parola più bella emersa durante le celebrazioni per Nostra Signora della Guardia al Santuario di Gattorna. Accogliere Gesù nella propria vita, ma anche il fratello che ci sta accanto. Due aspetti che rappresentano l'essenziale della vita di fede di ciascuno. Il richiamo, a tornare al cuore del Vangelo, è stato espresso durante la Messa Solenne da Don Mario Moltedo, vicario foraneo della Fontana Buona e fatto proprio dalla comunità di Gattorna. Questo modo discreto di Maria, di riportarci a ciò che è essenziale, a ciò che conta, forse abbiamo sempre un po' da ritrovarlo, da riscoprirlo, perché a volte, ecco questo lo aggiungo io, forse rischiamo a volte di cercare lo straordinario, l'eccezionale, il miracolo, e ecco che se aiuta, se serve, può anche accompagnarci, però a volte rischia di farci perdere di vista quella normalità e quella grandiosità che è il dono che abbiamo già tra le mani. Il santuario è richiamato fedeli non soltanto dalla zona di Gattorna. Le persone sono accorse da luoghi diversi del territorio per soffermarsi in preghiera nei vari momenti della novena. Tappe significative sono state la messa del mattino e la celebrazione è presieduta da Don Mario Cagna con il rito dell'unzione degli infermi. Davvero la figura di Maria nella devozione popolare dei nostri paesi è legata a un affidamento nei momenti di difficoltà, di fatica, di malattia, e quindi la gente, il sentimento, ecco il modo che mi pare di vedere, di cogliere, è quello di chi viene a raccomandare ad una mamma le proprie necessità.